Domenica 22 marzo è la giornata mondiale dell'acqua, risorsa strategica, bene e comune. Per questo motivo il Comitato No al Petrolio nel Vallo di Liano, in collaborazione con il coordinamento nazionale Notriv, organizza un presidio presso la sorgente di Sant'Antuono, sita nel comune di Polla. L'appuntamento è alle ore 11 di domenica 22 marzo. La fonte Sant'Antuono è stata scelta perché alimenta l'acquedotto di quattro comuni, oltre a Polla, Sant'Arsegno, San Pietro Attanagro, Caggiano e Salvitelle. Il Comitato No al Petrolio sottolinea che la fonte Sant'Antuono si trova a poche centinaia di metri dall'area industriale di Polla, dove il comune di Polla vorrebbe realizzare un deposito di idrocarburi. Simbolicamente non solo quest'acqua è in pericolo, afferma il Comitato. Ricordiamo, continua la nota, che anche i permessi di ricerca, chiamati Monte Cavallo e Tardiano, qualora realizzati, distruggerebbero la vita nel Vallo di Liano, in quanto gravano su importanti risorse idriche, quali quella di Montesano sulla Marcellana e Buonabitacolo e sul bacino idrografico dei monti della Maddalena. Proteggiamo la nostra acqua dalle trivelazioni petrolifere. Questo è lo slogan promosso dal Comitato per l'appuntamento di domenica.